Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa voglio ringraziare i tantissimi nuovi abbonati degli ultimi due giorni, abbonati alle video lezioni di questo canale. Si tratta di Lorenzo, Filippo, Antonio, Gennaro, Andrea, Giorgio, Stefano, Giuseppe ed un secondo Giorgio. Ogni mese il numero degli abbonati continua a crescere anche grazie a tutti gli abbonati storici che continuano a rinnovare. Quindi grazie davvero. Con gli abbonati stiamo studiando come è nero la difesa francese. Tema di questo mese è la prima lezione sulla variante di cambio dove ho preparato linee fortissime che ha giocato lo stesso Karzen. Ho anche analizzato 9 partite da affiancare alla teoria. Nel video di oggi per tutto il canale vi propongo in anteprima la partita tra il forte grande maestro Fontaine e Karzen giocata due anni fa in una partita rapid della Pro League. Partiamo! Fontaine di bianco apre la partita con E4, Magnus Karzen risponde con E6 la difesa francese. D4, D5 è come dicevamo argomento del mese la variante di cambio. Noi abbiamo sviluppato tutta la linea principale che sarebbe E per D5, E per D5, cavallo in F3, cavallo in F6 la cosiddetta scelta simmetrica. Il bianco continua con la mossa più giocata al fieri in D3. In questa posizione noi come nero rompiamo subito la simmetria con la forte spinta C5. Stessa cosa che farà Karzen in questa partita perché C5 non è soltanto un'arma sorpresa, è proprio una mossa ottima. Il nero ha infatti uno score enorme in questa variante, è poco giocata oltretutto quindi uno studio sistematico della posizione risulterà sicuramente in un grande vantaggio. Ritorniamo alla partita di Karzen perché arriveranno tramite trasposizione proprio a questa posizione. Quindi ritorniamo a D5, Fonten non cambia subito ma gioca al fieri in D3, Karzen spinge in C5, solo adesso il cambio è per D5, è per D5, cavallo in F3, cavallo in F6, siamo rientrati nella posizione chiave. Ora il bianco ha 5 modi principali di continuare la partita che noi nella lezione teorica analizzeremo in dettaglio. Fonten continua con la linea principale che è arrocco corto. Arriva C4 che attacca l'alfiere e quindi lo spinge indietro, lo sposta da questa diagonale forte offensiva. Prima di portare indietro l'alfiere, il bianco gioca l'ottima intermedia, torre in E1 con scacco, alfiere in E7 a proteggere il re, l'alfiere torna in E2. Ora questa è una linea un po' arida per il bianco, alfiere in F1 sicuramente migliore perché lascia la colonna E a disposizione della torre. Nelle nostre analisi parlerò in questa linea di un nero che trova facilmente la parità. Allora Karzen gioca arrocco corto, ha schiodato l'alfiere, B3 attacca il pedone più avanzato del nero, attenzione non lo si può difendere con B4 perché dopo arriva A4 e non si può continuare con la difesa perché dopo il cambio, cioè il solito discorso che abbiamo visto spessissimo anche negli ultimi giorni nella Ruy Lopez che il nero alla fine non può ricatturare perché c'è la torre sospesa in A8. Allora il nero deve cambiare. C per B3, A per B3 tra le due catture naturalmente è la ricattura migliore perché mantiene da questa parte una sola isola pedonale. Oltretutto apre la forte pressione della torre sulla colonna. L'altra buona caratteristica del bianco in questa posizione è il forte avamposto in E5. Quindi cosa fa il nero? Il nero quindi sviluppa il cavallo in C6, va proprio a controllare questo avamposto. Vedete invece il nero risponderà sulla colonna E, sulla colonna semiaperta C. Allora C3 solidifica il centro, toglie anche questa casa avanzata al cavallo ma anche all'alfiere torre in E8. Il bianco inizia a sviluppare il lato di donna, cavallo in B che va in D2, alfiere in D6. L'alfiere del bianco si riporta sulla sua diagonale preferita, arriva alfiere in G4 che inchioda il cavallo. Torre per torre con scacco, la donna ricattura, cavallo in F1. ora arriva la novità di Karzen, che comunque è una mossa questo salto del cavallo che è tipica in queste posizioni, attacca il pedone e non che non permette ma guarda anche questa casa G3. Ora bisogna difendere il pedone, probabilmente l'idea migliore è donna in E1, invece Fonten gioca alfiere in B2. Ma vedete la posizione un po' passiva di questo alfiere e invece Karzen migliora subito il suo, prende la diagonale che era dell'alfiere bianco. C'è già un vantaggio per il nero, alfiere in E2, donna in E6. Guardate come il nero sviluppa in maniera aggressiva tutti i suoi pezzi, arriva a B4. Per evitare che B5 arrivi con tempo, Karzen gioca cavallo in E7 e adesso il cavallo in G5 attacca la donna. Va benissimo anche cambiare subito in E2, e Karzen al solito gioca la continuazione più precisa, alfiere cattura in H2 con scacco. Ora il bianco non può catturare di re, se no la donna ne esce con scacco dall'attacco del cavallo. Quindi Fonten cattura col cavallo in H2, alfiere per alfiere attacca la donna, cavallo per donna, alfiere per donna. Il cavallo si riprende il pedone in G7. Il re riprende il pezzo, quindi re cattura in G7 e la torre cattura in D1. Fermiamoci un attimo, mossa 23 anche per Karzen. Se guardiamo la struttura pedonale, sembra che il bianco stia meglio, in realtà è il nero che sta meglio, perché questa, guardate anche i colori, è la classica posizione di cavallo forte contro alfiere cattivo. Allora, torre in C8, questa mossa che si gioca da sola, quindi attacca il pedone arretrato, quello difeso dall'alfiere, quindi costringe anche la torre a rimanere in difesa, torre in D3. Cavallo in F5, anche il bianco cerca di ricentralizzare il cavallo, cavallo in F1, H5, tipica mossa di Karzen per guadagnare spazio. F3 attacca il cavallo, ma il cavallo torna indietro in D6, sempre proiettato sugli avamposti, arriva G4. H per G4, il pedone F ricattura, cavallo in E7. Cavallo in E3, cavallo in C4, attacca l'alfiere, e allora qui cavallo per cavallo, il pedone ricattura, e guardate ricatturando di pedone, naturalmente si tiene bloccata la struttura pedonale. Torre sotto attacco si porta in F3, ora tra le varie idee, attivare la torre è sicuramente un'ottima idea, anche ottima cavallo in D5 giocata da Karzen, l'alfiere si sposta in C1, torre in C6, proprio quella mossa per attivare la torre. Allora, alfiere in D2, torre in F6, ora attenzione perché, come dicevamo, il cambio torre aumenta notevolmente il vantaggio del nero in questo finale, quindi Fontaine non se la fa cambiare. Oltretutto in questa posizione non è soltanto una questione strategica, anche tattica, guardiamo che succede. Torre per torre perde subito perché il cavallo attacca il pedone, G5 non funziona perché arriva a cavallo in E4, se non si vuol perdere la base della catena sicuramente si perde un pedone. E poi, otretutto, il nero continua con il solito discorso cavallo buono contro l'alfiere cattivo. Allora, dopo torre in F6 di Karzen, naturalmente non si deve far cambiare la torre in bianco, torre in H3. Torre in G6 attacca il pedone, torre in H5 attacca il cavallo. Il cavallo salta in F6, ora non si può avanzare il pedone perché arriva la forchetta poi di cavallo, quindi questa cavallo in F6 ancora più precisa della cattura con scacco, torre in A5 attacca il pedone. Cavallo in E4 arriva con tempo perché attacca l'alfiere, l'alfiere deve rimanere su quella diagonale, torre in G4 arriva con scacco, il re si sposta, arriva a A6. Quindi, con A6, mossa tipica di questo tipo di posizione, si chiude la colonna A. Torre in E5, il cavallo si porta in F6, torre in E7 vuole attaccare la settima traversa, ma arriva prima lo scacco, torre in F4 con scacco, il re si porta in G2, mossa 42 di Karzen, siamo arrivati anche al nostro quizone. Ora, per tutto quello che abbiamo detto prima, quale sarà adesso l'idea vincente di Karzen? Mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi, perché come abbiamo detto, il cambio delle torri consegna praticamente la vittoria al nero, Karzen gioca torre in E4, che attacca la torre, attacca anche l'alfiere sospeso e quindi forza il cambio delle torre. Torre per torre, il cavallo ricattura, e guardate che bel pedoncino che c'è da questa parte, re attacca il cavallo. Il cavallo si porta in D6, re in F4, e qui si migliora la posizione del re. Re in F6, se arriva lo scacco basta spostarsi, tanto non riesce ad attivarsi più di tanto su questo lato di re, arriva D5. Allora il re si sposta in E7, perché poi sta arrivando lo scacco, alfiere in H4 con scacco, F6. Di nuovo il re non si può muovere, alfiere in F2. Cavallo in B5, attacca la base della catena pedonale, l'alfiere è costretto a portarsi in E1. Si migliora la posizione del re, re in D6, re in E4. E qui arriva B6, al bianco iniziano a finire le buone mosse, oppure le mosse che lo salvano. Guardate adesso che succede se il bianco tenta di andare avanti e indietro, quindi se alfiere in D2, B6 stava preparando la fortissima 5, che in ogni caso crea un pedone passato. Pensate, è meno 10 in questa posizione, perché il pedone passato non si ferma, se no si vanno a perdere gli altri due pedoni. Quindi cosa fa dopo B6 Fontaine? Gioca alfiere in G3 con scacco. Il re si riporta in D7, però lì bisogna, in qualche maniera qualcosa andrà sicuramente perso, perché se torna indietro si gioca H5, il bianco gioca a D6. Il cavallo elimina la base della struttura pedonale con scacco, e qui probabilmente era una rapida line, non c'è più neanche tanto tempo per pensare, ma tanto la posizione è sicuramente persa. Re in D4, arriva la forchetta di cavallo che vince il pezzo, Fontaine abbandona. Karzen, come al solito, ha giocato una partita di una semplicità e di una logica pazzesca, le linee che ho scelto e che ho analizzato per voi e che Karzen anche ha giocato in questa francese di cambio sono tutte molto forti e portano tutte a delle belle partite, quindi non partite noiose in questa francese di cambio. Quindi se volete abbonatevi alle mie video lezioni, dove studiamo anche i finali e il medio gioco. Come al solito, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, se vi è piaciuto non scordate il like, non scordate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!